in questo numero del salus tg giornata mondiale contro il cancro infantile in italia 1380 bambini e 780 adolescenti colpiti oms due vaccini promettenti contro zika ma 18 mesi per test su larga scala studio inglese promuove la gomma da masticare ma solo senza zucchero ogni anno in italia circa 1380 bambini e 780 adolescenti si ammalano di tumore per informare aumentare la consapevolezza sulle neoplasie nei più piccoli il 15 febbraio si celebra la quattordicesima giornata mondiale contro il cancro infantile l'iniziativa è stata ideata da childhood cancer international la rete mondiale di 181 associazioni locali e nazionali guidate da genitori provenienti da 90 paesi e 5 continenti l'obiettivo è esprimere sostegno ai bimbi e teenager colpiti da patologie così gravi e dalle loro famiglie il 15 febbraio alle 11 in numerose città italiane si lanceranno in aria dei palloncini da ospedali scuole piazze coinvolte nell'iniziativa della federazione italiana associazione genitori oncoematologia pediatrica per simboleggiare l'unione e la speranza nella lotta contro questi tumori dell'infanzia circa 15 aziende o gruppi di lavoro sono impegnati nello sviluppo di un vaccino e due prodotti sembrano essere allo stadio più avanzato ma a dispetto di tutto ciò l'attuale assenza di modelli animali standardizzati e reagenti sta rallentando lo sviluppo e ci vorranno almeno 18 mesi per l'avvio delle sperimentazioni su larga scala una gomma da masticare al giorno potrebbe fare meglio della famosa mela in fatto di prevenzione della salute dei denti ma deve essere rigorosamente senza zucchero secondo uno studio inglese se tutti i dodicenni masticassero una chewing gum senza zucchero al giorno il sistema sanitario inglese potrebbe risparmiare fino a 41 milioni di sterline in trattamenti dentali